In questo periodo stiamo vivendo una terribile crisi economica e culturale che ha coinvolto tante famiglie, ma per i nostri ragazzi che si trovano in una situazione particolare, vengono dal mondo della droga, dell'alcol eccetera, per loro hanno una necessità in più per poter trovare una risposta alla loro vita. Per quanto riguarda le persone che hanno necessità di lavoro, è sorta appunto qualche anno fa la cooperativa nata proprio dalla Caritas Diocesana e insieme alla cooperativa in questi anni abbiamo fatto, grazie alla Chiesa italiana all'otto per mille, dei progetti che hanno avuto continuità. Questi ragazzi quindi ci chiedono in modo particolare il lavoro. Allora infatti i lavori, queste attività come la bottega del legno, la flegnameria oppure la vigna sono nati per rispondere alle loro esigenze, dargli del lavoro. Perché? Perché attraverso il lavoro possono riacquistare la loro dignità. I progetti del 2007, del 2008 che abbiamo fatto per quanto riguarda il panificio, la serigrafia, la flegnameria, progetti che continuano e che quindi danno lavoro alle persone. Quindi non ci preoccupiamo soltanto dei nostri ragazzi tossici o ex alcolizzati, ma anche di padri che erano di lunga durata inoccupati o disoccupati. Non abbiamo la bacchetta magica e quindi non è che riusciamo a risolvere tutti i problemi, però cerchiamo di ascoltare appunto le persone che vengono da noi e di vedere di fare tutto quello che possiamo fare. Grazie a tutti.